ciao a tutti questa settimana vi facciamo vedere come fare i ravioli dolci ripieni potete farli ripieni di ricotta e cioccolato come abbiamo fatto noi al forno oppure fritti per fare i ravioli dolci gli ingredienti sono 300 grammi di farina un uovo e un torlo 50 grammi di zucchero 50 ml di rum 50 ml di olio di semi di girasole un cucchiaino di lievito la scorza grattugiata di mezzo limone un pizzico di sale e per il ripieno 250 grammi di ricotta 40 grammi di gocce di cioccolato la scorza grattugiata di mezza arancia e nella ricotta metteremo 20 grammi di zucchero mettiamo un uovo intero in una ciotola e aggiungiamo un tuorlo un pizzico di sale e sbattiamo le uova aggiungiamo il zucchero il rum e l'olio aggiungiamo la scorza di limone grattugiata l'impasto come vedete è abbastanza semplice e potete farlo a mano mettiamo il lievito nella farina amalgamiamo un po cominciamo a incorporare la farina piano piano in modo che il composto l'assorba tutta noi vi abbiamo fatto vedere altri dolci di carnevale come per esempio le chiacchiere e le castagnole il dolce che sicuramente dura di più e magari è più semplice più popolare sono le chiacchiere questa ricetta però l'abbiamo collaudata e provata in tantissimi modi e soprattutto in modo che questi dolcetti sia fritti che cotti al forno siano buoni anche il giorno dopo perché spesso accade che i dolcetti soprattutto quelli fritti e ripieni il giorno dopo perdono molto la loro consistenza questo non avviene con questo impasto ve lo diciamo perché spesso si vedono magari ravioli dolci fatti con lo stesso impasto delle chiacchiere sarebbe un errore quindi noi abbiamo leggermente modificato la ricetta in modo che vi venga buona al forno fritta e che sia mangiabile il giorno dopo lavoriamo l'impasto per 10 minuti in modo che diventi compatto e morbido mettiamo un po di olio sull'impasto e copriamo con pellicola faremo riposare l'impasto per 30 minuti abbiamo fatto sgocciolare la ricotta e la stiamo schiacciando con una forchetta in modo da ridurla in crema aggiungiamo lo zucchero la scorza d'arancia gracciugiata e le gocce di cioccolato mettiamo la pellicola e lasciamo il composto in frigorifero tagliamo un pezzo di impasto utilizzeremo la macchinetta per la pasta se non ce l'avete potete utilizzare anche il mattarello in modo da rendere la pasta molto sottile quindi la passiamo una volta e la pieghiamo e poi la facciamo ripassare nella macchinetta quindi la facciamo passare un po di volte con il numero 1 della macchinetta questa è la classica imperia e appena si compatta si passa al numero 4 la ripassiamo potrebbe bastare dunque possiamo passarla per circa 3 volte al numero 1 e 3 volte al numero 4 possiamo cominciare quindi a farcire i nostri ravioli dolci vedete abbiamo fatto delle strisce le abbiamo sagomate quindi sono uguali tutti i lati praticamente in modo che vengano dritte stiamo mettendo un po di ripieno con il cucchiaino lasciandovi un po di spazio tra un e l'altro quindi prendiamo un po di albume e lo mettiamo con un pennello sulla pasta servirà per incollare l'altra parte della pasta ci mettiamo sopra quindi l'altra 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 parte in modo da ottenere dei ravioli ci aiutiamo con la mano di lì dove c'è il ripieno vedete compattate un po con la mano con la rotella sagomiamo vedete i bordi vedete i bordi con i rebbi della forchetta vedete facciamo semplicemente dei segnetti sui bordi preriscaldiamo il forno a 170 gradi statico i nostri ravioli li mettiamo su una leccarda per poi infornarli ovviamente se volete seguire la tradizione del carnevale invece dovete friggerli però vi stiamo facendo vedere l'opzione in forno perché in tantissimi ci chiedete per esempio sulla ricetta delle chiacchiere se si possono infornare questa sicuramente sì quella delle chiacchiere non viene benissimo in forno ne otterrete una ventina e siamo pronti per infornare i nostri ravioli ravioli dolci inforniamo a 170 gradi forno statico dopo 20 minuti possiamo sfornare i nostri ravioli dolci sono pronti ed eccoli qui fateci sapere se li fate fritti o al forno a carnevale però si sa si frigge quindi se volete fare la versione fritta per carnevale dei ravioli dolci potete friggerli in 600 ml di olio di semi di arachide in realtà vengono bene sia fritti che al forno però a carnevale si frigge e questo invece vedete l'aspetto di quelli fritti ve lo ripetiamo la differenza c'è ovviamente però sono buoni entrambi e questo vedete è l'interno di ricotta e cioccolato se volete vedere altre ricette di carnevale iscrivetevi al nostro canale youtube abbiamo una playlist piena di ricette di dolcetti di carnevale e ovviamente ci trovate anche su facebook e su instagram alla prossima ricetta ciao ciao